SIGEP 2020 ci troviamo allo stand di Carimali e siamo in compagnia di Mirko Michielon, il responsabile vendite del marchio Electra che fa parte della Carimali. Mirko, benvenuto sugli schermi di OrecaTV.it. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. E raccontiamo dunque in pochi minuti innanzitutto la storia del brand Electra. Bene, lasciami intanto dire che questa edizione di SIGEP è molto importante perché per la prima volta Electra e Carimali espongono nello stesso spazio espositivo, quindi dopo la recente acquisizione di Electra da parte appunto del gruppo Carimali siamo qui per presentarci come grande famiglia allargata. Electra esiste ormai dal 1947, un brand storico, italiano al 100%, che in questi anni ha segnato il passo per quanto riguarda la tecnologia, l'estetica, la funzionalità delle macchine da espresso. Questa acquisizione che c'è stata durante l'anno scorso è stata per noi fondamentale, ora abbiamo dei nuovi obiettivi, dei grandi passi da compiere insieme e questo del SIGEP sarà sicuramente uno di questi primi passi. Voi siete famosi per una macchina molto particolare che ha fatto la storia delle macchine da caffè in Italia, come si chiama? Sì, ricordi bene, è la nostra Belle Epoque, la macchina verticale che tutti un po' ci invidiano, la macchina con l'aquila sopra la cupola, una macchina iconica che riprende lo stile delle macchine da espresso d'inizio del secolo scorso e che oggi siamo, posso dire, gli unici fondamentalmente a proporre ancora con quell'estetica, con quella funzionalità e con quella qualità di estrazione che alla fine è quello che importa al barista e al consumatore. Tuttavia la ricerca e lo sviluppo di Electra è andato avanti e alle nostre spalle c'è il primo tra i modelli presentati in questa 41esima edizione di SIGEP. Come si chiama e quali sono le sue caratteristiche? Certo, qui abbiamo deciso di portare dei modelli selezionati, specifici per il mercato italiano ma non solo in realtà. A nostre spalle c'è la Indy, un modello ormai che è stato presentato qualche anno fa, però rimane la nostra punta di diamante, è un modello chiamiamolo multiboiler, anche se poi ci sarebbe da dire molto altro, un modello particolarmente apprezzato dai torrefattori perché dà moltissime possibilità di estrazione, di settaggi ma anche al barista perché rimane molto funzionale, è molto semplice da regolare e ripeto, quello che poi interessa alla fine è che la qualità dell'estrazione sia ripetitiva e questa macchina lo permette veramente. Ma non finisce qui? Non finisce qui perché abbiamo poi dei modelli diversi, abbiamo la K-Up, la K-Up che è disponibile in diverse configurazioni, qui abbiamo la versione bianca a due gruppi, l'abbiamo deciso di portare perché è il nostro best seller. Nel mondo oggi la K-Up è il modello che meglio si sposa con la maggior parte delle richieste del mercato, una macchina molto versatile, a un prezzo molto competitivo e sicuramente ben apprezzata dai nostri clienti e distributori. E infine la macchina monogruppo che di per sé, guardandola dall'esterno, è un piccolo gioiellino di tecnologia. Sì, abbiamo ricevuto sicuramente dei feedback molto positivi per quanto riguarda in prima volta tutta l'estetica, questo è abbastanza visibile ma anche per la funzionalità. Si chiama Verve, è un modello ad un gruppo, diciamo sviluppato per un prosumer, quindi per quel consumatore professionista o simile, per un vero coffee lover che a casa vuole avere una macchina di alta tecnologia come al bar che permette di estrarre un ottimo espresso ma si può facilmente anche installare in piccoli esercizi commerciali grazie alla possibilità di collegarla direttamente alla rete idrica. Mirko, grazie per la disponibilità, sei stato rapidissimo. Diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno nel caso in cui desiderino avere maggiori informazioni oppure chissà acquistare una delle macchine che abbiamo appena visto mentre tu ne parlavi. Benissimo, ti ringrazio. Allora l'indirizzo e-mail è molto semplice, è info-electra-srl.com oppure visitate il nostro sito web www.electra-srl.com Grazie per il contributo Mirko. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie a tutti.